bello a tutti ragazzi sul canale ragazzi vedi attenzione di una super lì con la mia squadra con il ciovelino ragazzi 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 non scosto il video ragazzi abbiamo vinto con il Milan 3 a 3 a 0 con gol di colotto colotto col di Madini gol di a Biersanetti e gol di Colma e con il rosso di recupera ragazzi ragazzi ok ragazzi dove le coba non gioca ragazzi 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 volevo dire prima la il giro cioè gruppo questo qua il primo posto ragazzi con questo con 6 punti la giro con 4 punti terza parte non è una con 4 punti al quarto il setic che ha prima nel suo suo video ragazzi ok ragazzi poi quattro quindi quinta l'Ajax e ultimo e lano non è un gruppo B rara primo real secondo baia manco terza ranks quattro borsano quinta masternode e sesta ragazzi ragazzi il capo calentini ragazzi svegliamo che ciò ragazzi con ieri traverso dai ragazzi e che dire che è presente va da me con le volte anche il cordova con con le ragazzi ok raga in te il giugno ragazzi interiugno ragazzi ah un po' posto di interiugno ragazzi mamma mia mamma mia ragazzi questo video ragazzi è il 9 settembre 6 6 9 settembre 9 9 9 febbraio ragazzi il giorno è il giorno di ritorno da con te ragazzi bella ragazzi ragazzi che non chiamissi ok metto a calo non è i volvi metto a calo ok ragazzi beh ragazzi andiamo andiamo a spaccare ragazzi a spaccare eccoci qui ragazzi interiugno ragazzi la con la maglia rossa ragazza non ho mai visto non ho mai visto non ho mai visto ragazza ragazza ragazzi questo gioco oggi ragazzi è l'uomo 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 9 10 9 10 10 9 10 11 10 11 11 11 12 è meglio per la musci la musci la musci la musci senti che ha un giallo autocolli di di tram tram autocolli della io ragazzi guardate il secondo autocolli al nostro favore vai e stacca fallo 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 batte cordova per ieri stacca dottor avete no no vatto no va adesca dom dom National B Squ income per pada media Elefant Succa sword Wè Mocco Viero Vai L'ho uscita Per Bademade Buffon la blocca ragazzi Attenanti in class pro buffon Dai si scatta prima Ancora Ancora la musci Ah non scatta niente Per Paolo Aia ragazzi Cristiano Setti salta la prossima Salta la prossima ragazzi Salta la prossima ragazzi Salta la prossima Per Materazzi Bademade Cristiano Setti Colui che non gioca la posto La posto Per Cristiano Setti Cristiano Setti Voleva 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 Soprattutto Dalla sua Annetoria Per Il giallo E non Posa Gioca la posto La posto La posto Pieri 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 Aia Magali I vantaggio Ragazzi Andiamo Faccio Gioca Eeeh Anche Ragazzi Anche Vieni Non giocare La prossima Ragazzi Ma Camara Ma Chi Deve Deve Gioca La Scusate Ragazzi Nera Com E Vieri C'è Non ho capito Vabbè 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 Ragazzi Mi invento Qua casa Mi invento Qua casa Ci mettiamo Cosa Non posso Vivere Ragazzi Pieri Per la Vabbè E' Con Vabbè Il suo terzo gol In Questa Super Lica La Il suo terzo gol Io stesso che ho detto, ragazzi, vengiamolo a bufarsi a fare i funghi. Bufogna. Fallo! No, ragazzi! Rosso per ieri! Doppio giallo che non ne ho giocato a due, ragazzi. Ragazzi, questo non è fado. Dai, ragazzi, ragazzi. Questo non è fado. Guarda, dai, ragazzi. Ragazzi, c'era quaazze a fallo. Questa è fado, ragazzi! Ragazzi, facci i cambi. Ok, ragazzi. fuori chi sono stati per evitare ok adani fu ricordo e fu anche tolto ragazzi è da dentro fontana ah guarda ti devi spostare il ricottere avviazze 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 attenta te lo fai bella attenta ma vuoi ma bupa aia la mossa va vada 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 le in e coloca accanto fermiamo attacca vingiamo con grosso anche un doppio abbonzione chibi non è un'idea che la proposta forte a 15 punti e non è un caldo dodo fa Salta, vieni a vedere Ecco ragazzi Ragazzi ci vediamo dopo domani Dopo la parte di Interview ragazzi Dopo domani ragazzi Bella, bella, bella raga